Il nuovo regolamento per l'arredo urbano e l'installazione di Deor dei pubblici servizi e degli esercizi commerciali è stato approvato all'inizio del mese di febbraio. Sulla home page del sito web del Comune di Pavia è possibile visionare il regolamento nel quale vengono spiegate tutte le indicazioni necessarie agli esercenti, ma è direttamente l'assessore al commercio Sandro Bruni a fornire una dettagliata spiegazione e a mettere in luce gli aspetti più importanti del nuovo regolamento. Siamo con l'assessore al commercio Sandro Bruni per parlare di regolamento dei Deor. Assessore, regolamento dei Deor approvato in Consiglio Comunale all'inizio di febbraio. Quali gli aspetti principali? È stato fatto un buon lavoro dal Consiglio Comunale, dalle commissioni e direi anche nel momento di preparazione del regolamento con le organizzazioni di categorie dei commercianti, ASCOM e CONFESERCENTI. Si è definito in questo regolamento quello che già esisteva da tempo, ma che ormai era superato nei termini e nei modi, si è definito quello che deve essere l'arredo urbano della nostra città e poi di conseguenza anche la questione dei Deor. Quindi non è soltanto un regolamento che dice sì e no al Deor, ma è un regolamento che definisce come il commercio deve attrezzarsi nella nostra città e nelle nostre piazze per fare in modo che ci sia una certa uniformità e una certa regolamentazione di sedie, ombrelloni, tavoli e poi laddove è possibile anche dei Deor. Dico laddove è possibile perché ad esempio in Piazza Le Vittorie e in Piazza Duomo, come Giunta ma anche come Consiglio Comunale, abbiamo ritenuto opportuno non mettere i Deor appunto per dare la possibilità alla piazza di essere vista, di essere considerata così come è. e non solo la piazza Vittorie ma anche Piazza Duomo adesso che verrà poi definitivamente sistemata la cattedrale. Questo è un raggiungimento anche di un obiettivo che il sindaco si era dato nel momento programmatico, nel momento quindi della sua elezione. Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo accordo anche con l'aiuto dei colleghi della Polizia Urbana e quindi degli assessorati che ci sono avvicendati della Polizia Urbana. La definizione dell'area d'urbano e di quello che è Deor ci permette di dire, e questo abbiamo fatto un lavoro insieme, di dire per alcune cose serve soltanto una normale autorizzazione, per i Deor laddove è possibile ci vuole invece la concessione vera e propria, quindi con la verifica anche della parte paesaggistica. Ecco quindi in sostanza concretamente cosa cambia rispetto al passato con questo nuovo regolamento? Cambia che abbiamo dato delle indicazioni ben precise per quanto riguarda le altezze anche del cosiddetto aree d'urbano, le modalità, l'ombrellone, le sedie, in modo che ci sia una certa uniformità all'interno delle città. Gli spazi pubblici possono essere utilizzati salvaguardando il passaggio delle persone, dei passeggini, degli handicappati. e viene anche definito al meglio, questa è una cosa importante, specialmente per alcune piazze, viene definito al meglio quello che è l'effettivo spazio che un esercizio commerciale può occupare, con delle sedie oggi qualche allargamento in proprio c'è stato, e quindi un po' perché sono aumentati anche gli esercizi commerciali in città, ma viene definito al meglio con il prospetto del proprio negozio e con uno spazio che viene considerato e misurato dagli stessi vigili urbani, lo spazio che uno può e deve occupare e non invece allargandosi a destra e a manca. Ecco, sul sito web del Comune di Pavia è visionabile da tutti questo nuovo regolamento e se qualche esercizio cittadino volesse qualche informazione in più dove dovrebbe rivolgersi? Direi che presso i nostri uffici, sia della SUOP, del sportello alle imprese, che presso i nostri uffici del commercio viene data l'indicazione. La cosa che è interessante è che chi deve adeguarsi, perché magari nel passato ha avuto autorizzazioni diverse, noi diamo due anni di tempo per l'adeguamento, il Consiglio Comunale ha deciso di fare poi due anni di adeguamento, però l'adeguamento magari per qualche ombrellone o per qualche tenda, perché per le sedie, i tavoli e anche per quanto riguarda l'arredo di contorno non sono cose pesanti. La vera novità è che abbiamo permesso anche per l'arredo, la possibilità di metter sotto, laddove è necessario, anche delle pedane minime per fare in modo che ci sia la possibilità di non lavorare su situazioni magari difficili o sconnesse che possono creare dei problemi. Però direi che finalmente si è realizzato un quadro operativo che tutti devono rispettare e che darà certamente alla città una fotografia un po' diversa, un po' uniforme, non piatta, ma un po' uniforme di quello che pur nell'espetamento delle proprie attività si va a rispettare quello che è l'ambiente così importante del nostro centro storico e della nostra città.